Di nuovo buona domenica a tutti. Serie B pari a Catanzaro, pari a Mantova e vittoria esterna importantissima del Sutterol sul campo del Cosenza, vittoria importantissima della Salernitana a Palermo e pari anche a Cremona. Una giornata dove le grandi rallentano e dove le piccole si portano avanti. Come ho detto quest'anno una Serie B molto livellata, una Serie B che sicuramente sarà un campionato fondamentale, un campionato dove non ci sarà sicuramente un'ammazza campionato ma non ci sarà neanche una retrocessione rapida, ci sarà una lotta fino a fine campionato. Complimenti, veramente una Serie B spettacolare e questo vuol dire che ha alzato il livello di questa categoria e alza anche il livello delle squadre. Vi ringrazio sempre tutti per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!